Arrestato l'8 dicembre scorso per il furto di un'auto in via della Mecca a Catania, era stato posto ai domiciliari in attesa della giudizio per direttissima, ma la mattina seguente non si era fatto trovare in casa dai carabinieri venuti a prelevarlo per l'udienza di convalida. Ieri pomeriggio, dopo varie ricerche, l'uomo, Salvatore Fraschilla, 28 anni, di Catania, è stato scovato e ammanettato dai militari in casa di un'amica. Durante l'operazione i carabinieri hanno rinvenuto nelle pertinenze dell'immobile una Fiat Punto risultata rubata a Catania il 4 dicembre scorso. L'auto è stata restituita a legittimo proprietario, mentre l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.